Istituire un osservatorio permanente sull'ambiente è la richiesta avanzata dal Comitato Civico Ambientale presieduto da Cosimo Panico. A motivare tale istanza i riscontri, come si evince dai dati messi a disposizione dalla provincia di Salerno a seguito dell'attività svolta dal registro dei tumori, di un rapporto stretto tra l'incidenza dell'inquinamento ambientale e di fattori di rischio per l'insorgenza dei tumori. Di qui la necessità di istituire un osservatorio permanente sull'ambiente, quale organo finalizzato a monitorare ed analizzare i fenomeni correlati ai settori dell'acqua, del suolo, del clima, del ciclo dei rifiuti, dell'inquinamento ambientale, del recupero di aree e infrastrutture in disuso, della salute pubblica e a sviluppare interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi dell'educazione e della legalità ambientale in sinergia con le istituzioni.